FAM! Numbers! Nell'episodio precedente di Budget Ball Z Wow! È una femmina di dinosauro! Papino! Ho molta fame, Papino! Cosa? Noi nameciandi non mangiamo cibo! Assorbiamo energia dal sole! Papino, stai mentendo! Guarda, ho un buco tra le chiappe! Junior, ti prego allenami! Sarò la tua p***lla, proprio come Gohan! Come fai ad essere ancora vivo? Ti prego, signor Junior! Allenami! Insegnami l'arte del Kaioken! Kaioken? Stai chiedendo alla persona sbagliata! Dovresti far visitare Kaios, semmai! Cosa? E dove si trova? È proprio laggiù! Dove? Eh, proprio laggiù! Ah! Ah ah! Eh, Babur! Quello è il mio gelato! Pfff! Come si prendessi Babur? Io ti sca... Papino! Perché sono ancora nuda? Super cannone di vestiti speciale col bici! Sì! La mia femmina di dinosauro! Ciao ragazzi! Se anche questo breve video vi è piaciuto, mi raccomando mettete un bel pollicciazzo su e lasciate un commento qui sotto! E mi raccomando! E mi raccomando, non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! Ci vediamo domenica, non mancate! Ciao!